Torniamo adesso alla giornata di Berlusconi a Napoli, prima della conferenza stampa che abbiamo sentito qualche istante fa e poi durante l'incontro stesso con i giornalisti, il nostro inviato, Raffaele Fichera, aveva fatto delle domande al Presidente del Consiglio. Sentiamo. Presidente TG3, perché non risponde alle domande? Ho risposto, ho fatto conferenze stampa, ho fatto tutto, perché dite queste sciocchezze? In questo momento forse il Presidente del Consiglio dovrebbe riportare. Nella conferenza stampa, in questo momento il Presidente del Consiglio, che è una persona seria, sta facendo il suo lavoro e cioè di rappresentare l'Italia al massimo livello nella conferenza internazionale sul crimine organizzato. Non era il momento più opportuno secondo lei. No, non dica sciocchezze, la propria. Lei ha parlato di abuso e strumentalizzazione, li ha definite infami, della giustizia penale. Ecco, le volevo chiedere, Presidente, che cosa significa, insomma, chi è che abusa, chi strumentalizza e in altre parole se lei si sente vittima di una manovra, di un complotto. Io non le rispondo, perché lei questa mattina ha affermato che io non rispondo alle domande. Per una volta mi consenta di darle ragione. Buonasera, avete visto i due momenti dello scambio, dello strano scambio di battute fra il nostro inviato a Napoli, Raffaele Fichera, e il Presidente del Consiglio. Ve li abbiamo voluti mostrare perché questa sera siamo piuttosto stupiti e abbastanza addolorati del fatto che davanti, in una conferenza stampa, davanti ai colleghi italiani e stranieri, il Presidente del Consiglio non ci abbia voluto rispondere, senza motivare. Questo ci addolore e ci stupisce non solo perché riguarda la nostra testata, e questo è naturale, ma soprattutto perché noi riteniamo che il ruolo della stampa in un Paese libero sia quello di fare delle domande e che il ruolo di un uomo pubblico, di una persona investita di una così alta carica, sia di rispondere sempre a tutte le domande, soprattutto se queste domande vengono rivolte nel modo più civile. E anche questa mia è una domanda. Presidente Berlusconi, perché non ci ha voluto rispondere?